Buongiorno a tutti e bentornati nella Congrega del Terrore. È in arrivo la nuova trilogia sequel dell'Esorcista, il film cult e capostipite anche del genere, del 1973, diretto da William Friedkin e tratto naturalmente dall'omonimo libro di William Peter Blatty. Sull'Esorcista trovate sul canale un sacco di video approfondimenti dalla vera storia che ha ispirato Blatty nella stesura del suo romanzo a varie curiosità riguardanti proprio i film, fino anche a una puntata di autori horror dedicata proprio interamente alla vita e alle opere di William Peter Blatty. Perciò in questo video di cosa parleremo? In questo video andremo a vedere tutte le novità riguardanti questa nuova sequel e poi commenteremo insieme anche il trailer. Negli ultimi tempi c'è un po' questa mania di continuare a fare remake, reboot, sequel di film classici, di film vecchi, come appunto possiamo vedere nel caso dell'Esorcista ma come abbiamo già visto anche con La casa al risveglio del male di Lee Cronin che è uscito questa primavera, che per l'appunto era il sequel diretto della saga della casa di Sam Raimi degli anni Ottanta. Siamo arrivati poi quest'anno al quinto Insidius e poi a ottobre vedremo il decimo capitolo della saga di So, giusto per menzionarvi soltanto quelli di quest'anno. Perciò diciamo che tra le proposte non è che si sente, si vede tanta originalità, sembrano un po' tutti cavalcare l'onda del successo di film che effettivamente hanno fatto successo quindi sembra un po' un vincere facile. Quindi si respira un po' di aria di monotonia nel mondo dell'horror forse dettato anche dal fatto che adesso io ve ne ho menzionato soltanto qualcuno ma effettivamente ne stanno uscendo tantissimi quindi stanno buttando fuori tante proposte di nuovi film horror quindi potrebbe essere anche un po' difficoltoso riuscire magari a trovare delle idee originali per ogni film. Certo, per nessuno diventa già un pochettino più complicato. E tutto questo vale ancora di più per la Blue Mouse che appunto si trova alle spalle anche di questa nuova trilogia dedicata all'esorcista che quest'anno, soltanto quest'anno, ha all'attivo ben sei film. Ma c'è da dire che è un po' alla base della sua attività quella di buttare fuori un sacco di film solitamente low budget per quanto riguarda questo in particolare invece è un progetto un po' più ampio nel senso che ha richiesto un budget decisamente più alto forse anche con l'obiettivo di commercializzare maggiormente il genere horror e quindi cercare di andare a raccogliere un bacino d'utenza un po' più ampio il che non è male perché comunque è sempre stato un genere abbastanza disfrattato soprattutto in Italia perciò se adesso comincia a prendere anche un po' di piede con dei film, dei remake va bene lo stesso, basta che non diventi troppo un'abitudine. E di fatti è lo stesso fondatore della Blue Mouse, Jason Blum che si è espresso in questi termini per quanto riguarda l'esorcista e il credente considerandolo uno dei progetti più ambiziosi della casa produttrice proprio perché ha richiesto un sacco di budget e quindi diciamo che sono un po' sul filo del rasoio sull'andamento poi futuro di questo film soprattutto per quanto riguarda quelle altre compagnie che collaborano con loro perché loro nel frattempo hanno già guadagnato e straguadagnato con tutti gli altri film. C'è però da dire che sfonda una porta aperta proponendo il sequel di uno dei film più famosi più conosciuti al mondo. Io sfido chiunque a non aver mai neanche lontanamente sentito parlare dell'esorcista che tra l'altro è anche uno dei film più spaventosi che siano mai stati fatti uno di quelli che ha terrorizzato maggiormente le persone e che ancora popola gli incubi di molti almeno da 50 anni a questa parte. Perciò anche solo cavalcando l'onda della fama di questo grande cult diciamo che il successo perlomeno economico è abbastanza assicurato anche perché va a coprire un bacino d'utenza che è molto ampio va ad interessare una grande fetta di popolazione sia gli affezionatissimi al grande classico che sicuramente non si potranno perdere un sequel dell'esorcista sia anche solo per poi uscire e criticarlo senza contare poi anche le nuove generazioni che sono comunque interessate al genere che magari si stanno approcciando al genere horror e quindi per loro magari il tema dell'esorcismo è ancora un tema bello fresco. Alla regia dei nuovi The Exorcist troviamo David Gordon Gree che è già a riduce di un progetto simile cioè di una trilogia sequel di un film classico e cioè la trilogia di Halloween. Per quanto riguarda l'idea di questa trilogia perché fin da subito è stata annunciata come una trilogia di film nasce nel luglio del 2021 mentre le riprese iniziano nel novembre scorso quindi novembre 2022 e sono terminate a marzo di quest'anno. A luglio è stato dapprima naturalmente pubblicato il poster ufficiale del film e dopo pochi giorni è stato pubblicato anche il trailer ufficiale e dopo ancora pochi giorni è stata annunciata già anche la data di uscita del secondo film della trilogia e cioè prevista per il 18 aprile del 2025 e il nuovo film avrà il titolo di The Exorcist Deceiver dobbiamo ancora vedere come sarà trasposto in italiano però è curioso che non è neanche uscito il primo film e già si sta parlando del secondo cioè questo è o è proprio sono sicuri di andare a segno quindi di fare un successo della Madonna con questo film e quindi mi viene da dire boh chissà che quanto quanto se la credono cioè che questo loro entusiasmo non diventi anche contagioso o se no si tratta effettivamente come detto da Jason Blum un progetto estremamente ambizioso. Per quanto riguarda invece il primo film quindi L'Esorcista Il Credente sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 13 ottobre quindi manca poco. E un altro colpo diretto che viene proprio indirizzato ai fan è il ritorno di Ellen Barstin naturalmente nei panni sempre di Chris McNeil che verrà contattata dal padre di una delle due bambine possedute interpretato da Leslie Odom Junior che è in cerca di aiuto quindi si rivolge a Chris dato che lei queste entità questi demoni che stanno tormentando la figlia li ha già affrontati una volta. E comunque sì avete capito bene una delle due bambine perché a differenza degli altri esorcisti in questo film sono ben due le bambine che vengono possedute da queste entità. Prima di dare un commento poi generale anche su quelle che sono le tematiche affrontate da questo film vediamo un attimo insieme alcuni spezzoni del trailer cambia un po' l'ambientazione iniziale perché le bambine sembrano perdersi in un bosco quindi questa cosa mi incuriosisce un po' voglio capire che cos'è che trovano in questo bosco e soprattutto cosa ci faccia lì questa entità che io immagino sia sempre il pazuzzo dato che viene coinvolta anche Chris McNeil poi vabbè io da fangirl dell'esorcista quando sento le prime notine della colonna sonora mi emoziono già poi per il resto sembra tutto abbastanza scontato quindi vengono portati in ospedale in ospedale non capiscono una mazza non hanno niente che non va poi iniziano a comportarsi in maniera strana insomma seguono proprio poi le regole base delle film sugli esorcismi e del Christian Horror poi per l'appunto vediamo fin da subito come il trailer si incentra particolarmente sulla figura di Chris McNeil perché mentre prima ci sono tutta una serie di immagini che scorrono abbastanza veloci quando arriva Chris quando arriva la citazione effettiva al primo film allora lì parte la colonna sonora per intero ci si sofferma un po' di più sulle immagini quindi c'è questo è chiaramente uno specchio per le allodolone che siamo noi super fan dei classici certo c'è da dire che forse si soffermano troppo nel senso che mi sembra che facciano vedere un po' troppo in questo trailer spero non sia tutto nel senso che spero poi ci sia altro in servo per noi quindi tolto il discorso della possessione simultanea perché sempre nel trailer noi capiamo che queste due bambine vengono possedute dalle stesse entità e anzi si comportano all'unisono anche i loro battiti poi iniziano a battere all'unisono quindi c'è questa questa novità diciamo che viene introdotta tutto il resto non mi sembra molto nuovo segue proprio per filo e per segno le regole del genere le regole anche del christian horror dove noi abbiamo la lotta del bene contro il male quindi c'è la figura dell'innocente che viene per l'appunto posseduta dal male e tutto e tutto di conseguenza naturalmente ci sono in questo caso due innocenti sono due bambine perché nel nostro immaginario collettivo per quanto riguarda la nostra cultura poi magari altre culture è diverso però per noi i bambini le bambine in questo caso sono il simbolo per eccellenza dell'innocenza e quindi la contrapposizione che viene fatta con il male è sicuramente percepita più forte quindi anche in questo caso non vengono introdotte grandi novità e a tal proposito mi sono domandata come mai fossero due bambine femmine nel senso non so se ci fate caso se ci avete fatto caso ma spesso in film di questo tipo sono per lo più delle figure femminili ad essere possedute non in tutti perché ovviamente non è che è la regola ci sono tantissime anche figure maschili nell'esorcista 3 ad esempio c'è il prete che viene posseduto cioè non è quello ma se ci fate caso nella stragrande maggioranza dei casi sono per lo più delle femminuce e mi sono chiesta come mai cioè quale fosse la correlazione con l'innocenza perché come abbiamo visto è una delle regole basilari dei Christian Horror e devo dire che non ho trovato una risposta probabilmente deriva dalle vecchie credenze legate principalmente alla religione quindi alla chiesa cattolica che vedeva la donna come la principale minaccia tra virgolette per l'uomo per quanto riguarda la sessualità l'intimità e quindi anche la figura più suscettibile alle provocazioni del demonio oppure derivano ancora da una mentalità riguardante il gentil sesso inteso come più debole ed innocente quindi si va sempre a ricercare quella contrapposizione con il male perché se ci fate caso sono donne sono madri quelle che fanno un po' più effetto oppure delle bambine e durante le ricerche quel poco che ho trovato mi sono imbattuta in un saggio il titolo è Il mostruoso femminile il patriarcato e la paura delle donne ed è scritto da Jude Ellison Sadie Doyle e in questo saggio passa al vaglio tutta la letteratura il cinema horror la cronaca nera alla ricerca per l'appunto di una risposta a questo quesito e sembra per l'appunto trovarla nella paura infondata alla fine dell'uomo nei confronti di una donna libera dal suo controllo ora nell'annus domini 2023 mi sembra una conclusione un pele eccessiva nonostante comunque molti nostri modelli di pensiero siano ancora riduci da modi di pensare un po' vecchiotti per l'appunto una madre che fa del male al bambino fa più effetto rispetto a un padre ma alla fine cioè non cambia perché è semplicemente derivante dal fatto dal concetto che noi abbiamo di mamma e di papà ma in realtà non è così per quanto riguarda i bambini l'abbiamo già detto per noi sono il simbolo per eccellenza dell'innocenza per il resto non lo so io mi sono posta questo dubbio mentre scrivo ma in realtà non ci avevo mai fatto caso prima se non mentre scrivevo mentre preparavo questo video quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se ci avete fatto caso anche voi se non ci avevate fatto caso anche voi e nel caso secondo voi qual è la risposta per ciò che dire in conclusione questo secondo me sarà l'ennesimo film Paraculo che va a puntare proprio sulle generazioni che sono più legate ai classici che probabilmente li hanno anche vissuti e che ci sono super affezionati e che quindi non perderanno l'occasione di andare a vedere al cinema un sequel come vi dicevo prima anche soltanto per poi uscire e dire fa schifo ve l'avevo detto e poi il fatto di prendere delle citazioni effettive come il ritorno di Chris McNeill come la la colonna sonora sono chiaramente delle delle tattiche per fangirl e a me personalmente fa effetto perché io sento la colonna sonora dell'esorcista e mi esalto subito quindi funzionare sicuramente funziona sono molto scettica sul risultato che avrà questo film perché verrà fatto uscire 50 anni dopo il primo film e mi chiedo che cosa ci possa essere da dire perché dopo 50 anni quantomeno un pizzico di novità me l'aspetto non proprio una scopiazzatura di quello che abbiamo già visto rivisto e stravisto nei film sugli esorcismi e anche per tutto questo fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e siamo quindi arrivati alla conclusione di questo video vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine se non l'avete ancora fatto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e di condividerlo con tutti i vostri amici e amiche che possono essere interessati all'argomento io vi ricordo sempre che qua sotto nella descrizione trovate una serie di link di approfondimento dove poter andare a spiare e per l'appunto approfondire gli argomenti trattati nei video trovate lo vedete anche un link attraverso il quale potrete sostenere il canale offrendo uno zombie caffè e dei vari link amazon ai quali sono affiliata quindi se acquistate partendo da quei link a voi non cambia nulla ma viene riconosciuta una piccola percentuale che posso reinvestire per il canale e anche le comunicazioni di servizio sono arrivate alla fine io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video può essere che questo mese torneremo alla programmazione precedente di un video a settimana vediamo un po' come va ciao ciao a juntetri a 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 Grazie a tutti.